Se oggi avete acceso il computer e aperto il vostro sito web preferito per navigare tra notizie, video, informazioni e tanto altro, dovete ringraziare questo signore. Tim Berners-Lee, informatico inglese, ha creato i www, la rete globale, e messo online il primo sito web il 6 agosto 1991 al centro di ricerca del CEM di Ginevra. 25 anni fa un sito web si presentava così. L'idea di Berners-Lee era quella di mettere a punto una rete che aiutasse gli esperti a comunicare tra loro, partendo dalla comunità di ricercatori e scienziati, per creare un database universale a cui tutti gli studiosi potessero accedere. La sua creatura è uscita dai confini dei laboratori per cambiare la vita di tutti noi. Berners-Lee non ha mai voluto brevettare la sua idea. Qui lo vediamo a Roma nel 2011 per l'evento del ventesimo compleanno del web a difendere quello che ancora oggi è il suo credo in una rete gratuita, libera e neutrale. Anche quando si è prestato alla pubblicità lo ha fatto per raccogliere fondi per la fondazione in favore del web libero. A distanza di 25 anni nel mondo ci sono oltre a un miliardo di siti web e quasi 3 miliardi e mezzo di utenti e il fenomeno web che ha più sorpreso il suo creatore, ha detto in un'intervista, è il culto dei gattini.